Raga, sto vedendo cose strane, allora praticamente qua ci sono i mob, devo accendere la luce, praticamente sono entrato in questo mondo misterioso, oh mio dio! Cioè, parlando in poche parole, sono spawnati tutti qua i mob, questa cosa è abbastanza strana, e allora io direi di iniziare a fare delle cose, praticamente questo mondo è pieno di misteri strani, infatti se vedete qua, c'è una cosa molto strana Quelle sono le mie teste! Fermi tutti, come si permettono? Raga, allora, se vedete la mia schiena è questa qua, quelle sono le mie teste, ma come si permettono di mettere le mie teste di là? Oddio santo Mi sono givvato della carne, ma perché raga? Più che altro perché non dobbiamo perdere tempo ad andare a cacciare gli animali, qua dobbiamo andare a cacciare altro Ma che cosa sono queste? Oh mio, no 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 no, non lo posso far vedere questo su youtube raga, non posso farlo vedere, credo di aver capito però cosa siano quelle cose purtroppo Allora, cerchiamo di andare in quella cosa, dove avevo detto, vediamo se riesco a saltare nell'acqua, però non posso se ci sono sti mostri del cavolecciolo Massimo, l'unica cosa che mi viene in mente è tipo quella di... ma no, ma vedete che sti qua però mi seguono raga No, 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 raga, 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 questi qua mi seguono, ma voi siete fuori di testa? Ma sti qua tipo sono demoni venuti da... dal sottotesto, ma che caspita è sta cosa demoniaca sto bioma Allora, cosa faccio? Come posso andare senza morire? Senza morire, senza morire, senza morire, perché c'è un creeper, io l'ho visto No, raga, l'ultima volta che ho fatto vedere questa cosa youtube mi ha fatto vedere, cioè, mi ha fatto proprio il sederone per dirle in questo modo, dai Perché non posso far vedere queste gocce, forse è troppo, anche per youtube Però io non vorrei farle vedere, solo che mi spawnano davanti, non è colpa mia se mi spawna del ketchup Ovviamente ketchup, sappiamo tutti che è ketchup Caro creeper, aiuto... va bene, almeno... almeno si esplode... No? Tu non esisti, se io non ti vedo tu non esisti Tu non esisti, 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 no 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 no, ti prego Vai via, vai, vai via, vai via, vai via, vai via Scusate, allora, mi stanno venendo le lacrime, come vedete, ma perché io ho visto da lì in fondo, dalla foresta, queste teste Qui? Vai, via, immediatamente No raga ho paura Allora sì lo so non dovevo farlo ma mi son givato anche l'armatura Perché sennò questo posto è veramente difficile Allora analizziamo Indaghiamo un attimo i misteri che ci sono qua Ma che cosa sei tu brutto Mostro Ma che schifo raga C'è un mistero che però non so se posso fare Raga cioè Capite voi capite io non posso farvi vedere di più Perché youtube poi dopo Davvero se la prende molto male Cioè proprio Mi fa fuori Mi imprende la mazza e me la dà in testa Cioè finché non capisco Che non posso farvi vedere queste cose ma perché Cioè Effettivamente sono esagerate Questi misteri che ci sono In questi mondi Perché ci sono questi misteri Cioè chi è che li ha ideati Ma poi Cioè cos'è che è successo effettivamente Che queste cose che vedete qua Avete capito Capitemi perché non posso nemmeno dirlo Perché ci sono Come sono successe E dovremmo capire la storia di queste cose Scrivetemi nei commenti se devo invitare dei miei amici Per capire La storia di questi Questi mondi Se volete Oppure preferite che magari faccio video da solo Come preferite Ricordatevi di lasciare like Tanti tanti tantissimi Fatelo proprio ora Vai Proprio ora E noi ci vediamo Per altri misteri